Ciao a tutti siamo a Monaco a ISPO 2017 e vi presentiamo una delle novità di Thule per il prossimo inverno la collezione round trip è stata completamente rinnovata la collezione round trip sostanzialmente serve per il trasporto per brevi e lunghi spostamenti di tutta l'attrezzatura sciistica quindi sci, bacchette, scarponi, guanti, maschere e tutto quanto la più grossa innovazione riguarda sostanzialmente la linea porta sci, il porta sci può essere singolo doppio oppure anche porta snowboard in questo caso abbiamo il porta sci doppio che è studiato soprattutto per i viaggi più lunghi abbiamo ovviamente le rotelle abbiamo la grossa innovazione esclusiva che è questa chiusura a S praticamente ci permette di migliorare l'inserimento e l'estrazione dei prodotti dalla borsa è realizzata in poliestere 600 dinari abbiamo la possibilità di inserire le bacchette abbiamo un rinforzo su tutto il perimetro per evitare il danneggiamento abbiamo un porta materiale supplementare che è integrato con una copertura per le lamine che serve per evitare di rovinare la borsa diamo a quello che è il porta scarponi e porta attrezzatura più generale è stato cambiato completamente abbiamo ovviamente l'apertura per gli scarponi posteriore sempre nello stesso materiale impermeabile abbiamo una parte più capiente per l'inserimento del casco dell'abbigliamento abbiamo aumentato anche lo spazio per la safe zone cioè la zona rigida per i prodotti più delicati grazie a tutti grazie a tutti